Oh, che belle le storie della Pixar, questi mondi immaginari che ci raccontano queste storie che insegnano ai nostri figli tante tante cose belle, eh? E' questo che vi dicono Dario Moccia, è vero? Caverna di Platone, che bella la Pixar, che bella l'animazione della Pixar, i critici cinematografici, eh? E' vero? Idioti, imbecilli, cretini, che vi mangiate qualsiasi cosa, dica uno che ne sa una virgola più di voi. Ma quando è che svilupperete un minimo, non tanto un minimo, di spirito critico? Fortunatamente per voi sono il vostro grillo parlante, soltanto che non vi porto sulla retta via, soltanto che non vi invito ad andare a scuola, vi invito soltanto ad essere critici, ad informarvi, ad andare oltre le cose che vi dicono, vi raccontano e oltre le cose che vedete. Allora, sono qui a farvi capire un concetto molto, 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 molto banale e semplice. La Pixar, con tutte quelle belle ambientazioni, con tutti quei personaggi carismatici, con tutta la narrazione della loro azienda, non vuole fare nient'altro che vendere e inculcare ai vostri figli, ai ragazzini, ai minori, valori brutali del capitalismo. L'efficienza, la produttività, l'essere macchine da lavoro, far sparire la divisione tra tempo libero e tempo lavorativo e far diventare una cosa sola. Voglio trasformare i vostri figli in semplici macchine e strumenti del capitalismo. Non mi credete? Adesso andremo a vedere anche grazie a questo nuovo set. Bene, questo qui è Anthony Lane, che ha fatto un reportage per il New York Times, dove appunto ha parlato un attimino di come funzionano gli studi della Pixar. Ci ha raccontato due o tre cose molto interessanti in questo suo reportage, il buon Anthony Lane, e sono principalmente tre che vi voglio riportare per poi farvi capire come i valori dell'azienda Pixar, con i suoi lavoratori, siano trasportati all'interno dei film della Pixar. Per prima cosa, Anthony Lane racconta come si svolge la vita lavorativa all'interno dell'azienda Pixar. Potrete trovare sale recreative, lunch bar, zone di ristoro, merendine gratis, sale pesi, palestra, tutte queste cose che fanno, rendono un ambiente di lavoro molto confortevole e rendono, secondo la mentalità della Pixar, molto più produttivo il lavoratore. Altra cosa molto interessante per parlare di questo nuovo punto di vista che forse avrete sulla Pixar a fine video è la Pixar University. Cos'è la Pixar University? La Pixar organizza dei corsi di cinema, dei corsi di scrittura creativa, dei corsi di disegno, di qualsiasi tipo di corso per, ad esempio, i suoi contabili. Perché, alla domanda che ha fatto Anthony Lane, all'ex direttore della Pixar University, si insegnano queste cose ai contabili? Perché la Pixar non vuole che i contabili siano solo contabili, perché se sono solo contabili si comportano da contabili. La Pixar vuole che i suoi contabili siano qualcosa di speciale, qualcosa in più, non una cosa tutta uguale. Non vogliono che i loro contabili siano contabili come gli altri. Basta collettivismo, viva individualismo. E un'altra cosa che c'è da raccontare, che io ritengo importante da questo reportaggio, è che la Pixar ha un piccolo istituto, un piccolo centro di controllo, che si chiama, attenzione, Brian Trust, che si preoccupa di guardare, controllare, suggerire tutti i piccoli cambiamenti alle fasi produttive, alle fasi di realizzazione dei lungometraggi di animazione Pixar. Ora, perché io vi racconto queste cose? Cosa c'entrano con i film di animazione della Pixar? Molto semplice. Voglio farvi capire qual è la mentalità che ha la Pixar con i suoi lavoratori e farvi notare come questa mentalità si è trasportata all'interno dei film e venduta ai vostri ragazzi, ai nostri giovani, ai fanciulletti che fanno serenamente a guardare, anzi credere andare serenamente a guardare, un robottino che buttare la spazzatura, un'auto da corsa che si ferma in un deserto e tutte le altre belle storie. Non è così, c'è dietro molto di più, adesso ve lo racconterò e chissà che alla fine, come dicevo prima, non mi darete ragione. Capito, Brian, questa com'è? Tiro polmonare. Polmonare? Delli, siamo in onda. Vabbè, cazzo, c'è bel montaggio. No, vaffanculo, da che c'è il montaggio faccio così, vaffanculo, sfigati. Va bene. Ok. Allora, iniziamo, riprendiamo dove stiamo. Allora. Aspetta. La Pixar, la Pixar crea lungometraggi dove i personaggi si autorealizzano, ma come fanno ad autorealizzarsi? Pensateci, cosa accade nei film della Pixar. Cosa fa? Cosa fa Woody? Cosa fa Buzz? Cosa fanno i mostri di Monsters & Co.? Cosa fanno le emozioni di Inside Out? Lavorano. Lavorano. I personaggi della Pixar si autorealizzano attraverso il lavoro. Concepiscono invece, ad esempio, la mancanza di lavoro come l'occasione per migliorarsi, come l'occasione per fare altro. Avete presente Cars? L'automobilina deve fermarsi, deve prendere un attimo una pausa, ma soltanto per diventare ancora migliore, per avere prestazioni ancora migliori. Il vecchietto di app è in pensione, ma deve cercare nuovi stimoli, deve fare altro. La Pixar ragiona soltanto in termini di lavoro, di produttività, di efficienza. Ecco, la Pixar che cerca di vendere valori, attraverso belle storie. Ma questa non è una cosa nuova. Non è una cosa nuova. Avete mai sentito un'azienda che cerca di fare del sociale raccontando i loro veri obiettivi? Sapete che Twitter, YouTube, Facebook, Instagram vogliono espandersi in Africa, dare connessione veloce agli africani, dispositivi a basso costo agli africani, per avere maggiore utenza. Ormai i mercati asiatici e occidentali sono quasi saturi. Invece l'Africa è un territorio ancora vergine per creare nuovi utenti. Ma ovviamente non possono raccontare questo. Un'azienda deve raccontare valori. Allora, cosa fanno tutte queste grandissime aziendone dell'Internet 2.0? Vi raccontano che loro vogliono portare sviluppo, opportunità a quei paesi. La Pixar non fa nulla di diverso. Dice che con il suo film vuole raccontare storie in cui i personaggi si autorealizzano, si emancipano, diventano più liberi. Ma come lo fanno in realtà? Lo fanno in un solo modo. Ho letto una frase dall'articolo che mi ha dato lo spunto per fare questo video. L'unico modo in cui la Pixar concepisce un personaggio è dandogli un lavoro. Riflettete un attimo. Woody, che cosa fa nel film? Un lavoro. Fa il mestiere del giocattolo. Tutte le sue azioni sono finalizzate a essere uno strumento utile a Woody. Cosa fa Buzz? Lo stesso. Insieme a Woody si condivano il ruolo di miglior giocattolo, miglior lavoratore. Cosa fanno i mostri di Monsters & Co? Devono produrre incubi, grida e si sfidano i due personaggi a fare questo. Cosa devono fare le emozioni di Inside Out? Devono lavorare, essere efficienti per far crescere Rilei e Gioia riesce a congepire l'esistenza di tristezza soltanto quando capisce che è utile all'aggiungimento dello scopo del lavoro finale. Ma anche altri film. Cars. La macchina deve fermarsi, prendersi un attimo una pausa per migliorare le proprie prestazioni. In Apple il vecchietto è in pensione, quindi anche qui si ragiona in termini di lavoro e di mancanza di lavoro. Il vecchietto di Apple deve trovare nuovi stimoli, deve fare qualcosa di nuovo. Lo stesso devono succedere alla fine il robottino della Pixar. Deve lavorare, deve lavar via dalla terra all'immondizia. Vedete come sono caratterizzati i personaggi Pixar? Credete sia davvero un caso? Qualcuno mi potrebbe dire in The Brave, dove c'è la principessa Merida. In Nemo, ok? Sono tutte e due storie in cui l'emancipazione avviene, i genitori accettino che due protagonisti siano liberi soltanto quando trova il loro posto del mondo, quando dimostrano di essere emancipati. Questa ossessione della Pixar per storie che parla di lavoro non è un caso, è un sottotesto anche piuttosto rampante, se andiamo a unire tutti quanti i puntini, che vuole inculcare attraverso questo sottotesto nelle nuove generazioni l'idea, quella che c'è nella loro azienda. Meno presenza del capo, più voglia di lavorare, mischiare le giornate, il tempo libero al lavoro, essere efficienti, essere produttivi. Infatti, la Pixar odia il collettivismo, ama l'individualismo, per questo i suoi contabili, come abbiamo detto prima, non possono essere solo contabili, ma devono essere contabili che hanno qualcosa in più. E tutto questo nell'ottica della Pixar e ancora di più si nota in Inside Out. Il padre di Rivei abbandona il Minnesota e la sua vita borghese per finire a San Francisco, guardacasa, sede della Pixar, per avviare la sua nuova start-up, la sua assenza, il nuovo posto di lavoro, il ritardo del camion dei traslochi, porteranno Rivei ad avere uno stato emotivo che la bambina deve accettare in ottica del fatto che il padre sta portando avanti una start-up. Infatti, il padre di Rivei, tutto Inside Out, non viene vista come una figura negativa. Anzi, è Rivei che deve accettare la sua nuova condizione, metabolizzarla. Ora, ora, cosa voglio dire con questo video? Che i film della Pixar sono brutti? Assolutamente no. Che non sono capolavori? Assolutamente no. Che non vanno visti? Cosa intendo dire? Secondo me, no, che abbiamo sempre portato i nostri fratelli, le nostre sorelle o i genitori, i loro figli, a vedere tranquillamente i film della Pixar, io li invito al boicottaggio di questa casa che crea film di propaganda capitalista. Già concepisco di più che sia un adulto andare a vedere, ma non che un bambino assista a quei film dove riescono a venderti un valore brutale come quello dell'efficienza, come una bella storia piena di valori positivi. E guardate bene che anche in quei film c'è sempre il concetto della spazzatura. Pensateci un attimo. E la macchinina di Pixar, di Wally, finisce in intrita rifiuti. Idem, stessa sorte, i giocattoli che stanno per morire in intrita rifiuti. I sogni, i ricordi di Rilek che la portano a diventare adulta finiscono in un luogo dove i ricordi svaniscono, la discarica si chiama. Quindi la Pixar ritiene che quando le persone sono obsolete, sono vecchie, non sono più produttive, sono da buttare nella spazzatura. Ecco, i grandi valori di questa CASA d'animazione. È una riflessione. Non pretende di essere universale? Ok. Ma, se anche non è universale, è un nuovo punto di vista che prima di me forse avevate potuto leggere da qualche parte, sicuramente, ma è dubito. Sono io uno dei primi che ve lo divulga, perché secondo me non leggiamo le stesse cose. Non abbiamo lo stesso background culturale. Se io sono il più grande vlogger italiano, ci sarà un motivo. E se voi mi guardate sciocchi in playback, ce ne sarà un altro. E allora, quello che dico io semplicemente, ok? Abituate i vostri figli a passare delle domeniche insieme con voi. Andatevi a fare una bella passeggiata, a portare il cane fuori, perché la vita non è solo lavoro e non è solo produttività. È anche stare insieme alle persone, prendersi le pause e onziare. Con questo è tutto, dal vostro più grande vlogger italiano, DER LIBELINOV! DER LIBELINOV! DER LIBELINOV! DER LIBELINOV!